Mariupol, l'ultima roccaforte nel sud-est dell'Ucraina, è vicina alla capitolazione. Le truppe russe avevano dato ai battaglioni ucraini in città e asserragliati nella ciaieria Azovstal un ultimatum per arrendersi, già scaduto questa domenica mattina alle 6 ora russa. Il presidente ucraino Zelensky ha definito disumana la situazione a Mariupol, ma secondo fonti non confermate avrebbe negato il permesso alle forze ucraine in città di arrendersi. E non risparmi un nuovo avvertimento a Mosca. L'eliminazione delle nostre truppe, dei nostri uomini a Mariupol, metterà fine a qualsiasi trattativa diplomatica. Fumo nero alla raffineria di Lisychanskia nella provincia di Lugansk. La rappresaglia russa per l'affondamento da parte ucraina dell'incrociatore Moskva continua con nuovi attacchi contro obiettivi non solo nel Donbass, ma anche nell'ovest dell'Ucraina. Il portavoce del Ministero della Difesa russo. Nella zona di Odessa le forze di difesa aeree russe hanno abbattuto un aereo da carico militare ucraino destinato a consegnare un grosso carico di armi fornite all'Ucraina dai paesi occidentali. A Kharkiv il continuo bombardamento russo sta lasciando la città in macerie. Sempre più civili cercano di fuggire verso ovest con l'obiettivo di lasciare definitivamente l'Ucraina. I corridoi umanitari hanno registrato però un calo del numero degli sfollati negli ultimi giorni. Nonostante il pericolo gli abitanti della capitale Kiev stanno lentamente cercando di tornare alla normalità sapendo che la calma apparente potrebbe essere di breve durata. Non lontano da Kiev a Borodianca sono iniziati i lavori di sgombro dalla città delle macerie lasciate dal ritiro dei russi. Le squadre di investigatori internazionali continuano a raccogliere prove dei presunti crimini commessi dalle truppe russe.